G7 in Germania, le basi per un accordo sul clima di Parigi. Dopo il voto in Turchia, l'Europa sempre più lontana. Summit Europa-America-Latina, le tante opportunità commerciali. Commissioni sulle carte di credito, un regolamento europeo le abbasserà. Anzitutto che entro la fine del secolo bisognerà decarbonizzare, una brutta espressione, l'economia globale. Per farlo cosa bisogna fare? Ridurre i gas serra fra il 40 e il 70%, ma la signora Merkel ha detto meglio se fosse il 70% entro il 2050. Ecco, dicevi, giustamente sono parametri globali, quindi questa riduzione deve coinvolgere tutti i paesi, anche quelli in via di sviluppo, per esempio l'Africa. È possibile che i paesi invece più ricchi, quelli più avanzati, siano pronti a pagare però il prezzo di questa differenza? Beh, intanto la stessa cancelliere Merkel ha riconosciuto che questo appunto, come dicevi, è un problema globale. Ha detto se anche da oggi Germania, Francia, Gran Bretagna avessero emissioni zero, le emissioni del resto del mondo sarebbero sufficienti a provocare una catastrofe climatica. Quindi per il lavoro nei paesi avanzati il G7 ha ricordato lo stanziamento di 100 miliardi di dollari, che per la verità è un impegno che era già stato preso a Copenaghen nel 2009, al vertice sul clima e poi completamente dimenticato, almeno è stato ritirato fuori dal cassetto. Ai paesi più poveri, cioè quelli che fanno più fatica ad adeguarsi a questi nuovi criteri, è un riferimento in particolare all'Africa e all'uso di energie rinnovabili. E questo chiaramente non potrà che essere finanziato dai paesi più ricchi e per questo si auspica nel comunicato del G7 che da settembre sia operativo questo fondo globale per il clima, il cosiddetto fondo verde. E dal G7 alla Turchia perché il 7 giugno si è votato e la sconfitta del premier Erdogan ha fatto notizia. Ci colleghiamo con Giampiero Gramaglia, direttore comunicazione dell'OIAI. Dunque Giampiero, un risultato pesante per Erdogan? La Turchia ha avuto un sussulto di richiamo alla sua tradizione laica che è nella storia della Repubblica Turca, ma rischia di ricadere anche in quei momenti di instabilità che ne caratterizzarono politicamente gli anni 90. Come vedi adesso quindi i rapporti tra Turchia e Europa? Io credo che la redazione tra Turchia e Unione Europea, se pensiamo a una prospettiva di adesione, sia ormai in qualche misura consumata. La Turchia è il primo paese che strinse un rapporto di associazione con allora la comunità economica europea. Parliamo del 63, oltre 50 anni di associazione, quasi oltre 10 anni di negoziati di adesione, hanno logorato le attese turche e mostrato che non c'è entusiasmo, determinazione da parte dell'UE per l'adesione della Turchia. La Turchia di oggi, la Turchia di Erdogan, senza altro, non guarda più all'Europa con un'ansia di adesione e l'Europa non guarda alla Turchia se non con una preoccupazione di adesione. Abbiamo parlato del G7, delle elezioni in Turchia, ma c'è stato un altro appuntamento importante questa settimana. Si trattava di un incontro tra Unione Europea e gli Stati dell'America Latina, proprio a Bruxelles. Ci colleghiamo con il nostro Thierry Vissol. Dunque, Thierry, un appuntamento a livello di capi di Stato e di Governo, eppure non si trova granché di questo appuntamento sui giornali e nei telegiornali. Perché? No, effettivamente non è un appuntamento qualsiasi. E per di più, in termini economici, siamo i primi investitori e i nostri investimenti in questa regione sono superiori a quelli insieme della Russia, della Cina e dell'India. Parliamo di 500 miliardi di euro. In termini commerciali, siamo per loro il primo partner in termini di investimenti e il secondo partner in termini commerciali. Noi esportiamo là più di 110 miliardi di euro all'anno e loro esportano verso di noi principalmente delle materie prime per 90 miliardi. Quindi è qualcosa di estremamente importante sia in termini economici sia in termini di sviluppo. Perché questi paesi, alcuni di loro, fanno parte anche di quello che si chiamano i BRICS, cioè i paesi con grandissima crescita economica che stanno diventando anche i nostri concorrenti. Ci occupiamo ora di pagamenti, pagamenti effettuati con carte di credito perché dall'8 giugno c'è in vigore un nuovo regolamento. Andiamo a vedere in questo servizio di cosa si tratta, poi ne parliamo qua in studio. Si chiamano commissioni interbancarie e sono tutti quei costi che, oltre al canone annuo che si paga per avere una carta di credito o un banco, ma vengono addebitati facendo un acquisto. Non solo, questo costo è spesso addebitato all'esercente che riceve un pagamento tramite carta di credito o di debito e il risultato è quindi l'aumento del prezzo anche per chi compra. Un tema sul quale si è dibattuto più volte e adesso qualcosa è cambiato. È infatti entrato in vigore un regolamento europeo che imporrà un limite a queste commissioni, con un risparmio annuo stimato a circa 6 miliardi per i clienti delle carte. Dunque abbiamo visto questo servizio che ci ha spiegato i problemi relativi ai pagamenti con le carte di credito. Siamo in studio con Evelina Jelenkoska-Luca, capo settore stampa della rappresentanza sanitaria della Commissione europea. Ben arrivata. Buongiorno. Dunque è un problema serio, grandi difficoltà anche per chi usa queste carte di credito. Un problema che è nato come? Diciamo che è un problema che ha tirato l'attenzione della Commissione europea tantissimi anni fa. infatti ha risultato in una inchiesta antitrust e in una decisione contro Mastercard e altri gestori delle carte di credito e di debito nel 2007. Questa decisione è stata oggetto di appello ovviamente delle banche, che però è stata confermata nel 2014 dove la Corte ha detto effettivamente che è una specie di tassa, cioè un pagamento in più che viene le cosiddette interchange fees, cioè il pagamento, una tassa o sovratassa per utilizzo delle carte di credito. Quindi prima quello era una zona dove le banche si potevano accordare in qualsiasi modo. Adesso abbiamo per le carte di debito un massimo di 0,2 e carte di credito un massimo di 0,3. In più gli stati membri hanno anche la flessibilità in questo regolamento che per quel che riguarda le carte di debito possono anche abbassarlo, quindi decidere nella regolamentazione interna che anche 0,2 è troppo. È il momento della rassegna stampa in collaborazione con Internazionale, allora ben arrivato Andrea Pipino. Salve a tutti. Dunque partiamo con delle notizie che riguardano uno scandalo che coinvolge... Di corruzione in Romania, sì, che coinvolge il primo ministro Vittor Ponta del Partito Socialdemocratico perché il 5 giugno la direzione nazionale anticorruzione, che negli ultimi mesi ha cominciato già a prendere di mira delle personalità politiche di primo piano, molto in vista, ha aperto un'inchiesta sul primo ministro Ponta per falso in atto pubblico, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Dopo la diffusione della notizia dell'apertura dell'inchiesta su Ponta, il presidente Klaus Ioannis ha chiesto al Premier di dimettersi, ma Ponta ha negato tutte le accuse, ha detto che rimarrà al suo posto e ha definito l'inchiesta un complotto dell'opposizione. Il 9 giugno è arrivata la decisione del Parlamento che ha respinto la richiesta di autorizzazione al procedere avanzata dalla DNA. È stata una vittoria di ponta, scrive Romalia Libera, ma solo momentanea, perché la crisi che si è aperta peserà molto sul Partito Socialdemocratico, scrive il giornale di Bucharest, e porterà inevitabilmente a una polarizzazione dell'elettorato. Secondo un altro giornale importante da De Vorol, con il voto del 9 giugno, citiamo testualmente, il clan dei parlamentari, lo chiama così il giornale, ha deciso di andare allo scontro con quello che rimane delle istituzioni romene. Anche secondo Criticatac, che è un sito di sinistra, sempre rumeno, il caso Ponte è solo l'ultimo episodio nella lotta tra partiti e istituzioni che si ripete ciclicamente dopo ogni tornata elettorale. Il sito però aggiunge che a far cadere il Premier non sarà una crisi di nervi come quella degli ultimi giorni, ma una nuova crisi economica. Staremo a vedere cosa succederà. È il momento di lasciare da parte la politica, perché parliamo di cinema. Allora, ben arrivati a Igor Mariottini e Andrea Corrado. Saluti a voi, bentrovati. Partiamo da te. Sì, per annunciare che questa settimana diamo merito a Partenos di portare in sala l'orso d'argento dell'ultimo festivio di Berlino, Vulcano. Il film di Jair Bustamante, che racconta la storia di questa ragazza, 17enne, Maria, che vive in una comunità maia, sugli alti piani del Guatemala, e lavora con i genitori in una piantagione di caffè. Ben girato, non a caso ha vinto l'orso d'argento del Berlino, ed è interessante anche per l'utilizzo della gente del posto, di questa comunità maia, come attori da parte del regista. Salve a tutti. Oggi parliamo di Western, perché è in sala The Salvation di Christian Levering. Con questo The Salvation racconta la storia appunto di un immigrato danese nel vecchio West, che dopo tanti anni di attesa viene finalmente raggiunto dalla moglie e dal figlio. Io comincerei col dire che innanzitutto il destino del protagonista e il destino del regista in qualche modo si assomigliano. Perché? Perché il regista se la deve vedere con il Western, che è il cinema americano per eccellenza. e quindi entrambi, sia il regista che il protagonista, si devono muovere in un contesto che in qualche modo è a loro estraneo, se vogliamo. Entrambi possiamo dire che sono degli underdogs, se vogliamo, degli sfavoriti, degli emarginati rispetto al contesto. Ed entrambi devono costruire la strada, la propria strada, la strada su cui loro camminano. E come sempre, con la rassegna sul cinema si chiude questo appuntamento di Focus Europa. Ci vediamo la prossima settimana.